Se io sono un sindaco fuori legge, chi mi ha preceduto allora dovrebbero veramente mettergli una taglia. E' un fiume in piena Antonio Trifoli, il successore di Mimmo Lucano alla guida del comune di Riace, secondo quanto riportato dalle colonne di Repubblica, era ineleggibile. Da vigile urbano precario non avrebbe potuto ottenere l'aspettativa, poiché la sua posizione lavorativa è vincolata da un contratto a tempo determinato. Ma lui non ci sta, respinge le accuse e si difende. La questione di ineleggibilità per una cosa così banale, penso sia l'ultimo colpo di coda, ripeto, di una certa parte politica che non ha capito che le elezioni sono state vinte perché la gente vuole cambiare. E appigliarsi a una cosa del genere, paradossalmente, devo dire, adesso ragionando come Salvini, mi farà avere ancora più popolarità e forza nell'agire per il bene del mio comune, sicuramente. Trifoli non pensa alle dimissioni e teme di perdere la fascia tricolore. Al momento infatti la prefettura non ha emesso nessun provvedimento circa la sua eventuale decadenza. Assolutamente, perché dovrei pensare alle dimissioni? Non ci ha pensato chi per anni ha amministrato in barba la legge e contro tutti i dettami della Costituzione, perché lo dovrei fare io? Perché semmai doveva essere posta una questione di incandidabilità più che di ineleggibilità. E se tutti gli organi preposti al controllo non lo hanno fatto, non vedo perché adesso dovrei essere preoccupato. Ilario Bali per la Cineus 24